Bisogna saper accettare questo momento, io ce l'ho messa tutta e garantisco che ce l'ho messa tutti anche i ragazzi. La proprietà è stata molto vicina, perciò questo mese e mezzo che siamo stati insieme, devo dire solo che è mancato lo zampino finale che purtroppo non è arrivato e sono profondamente addolorato, dispiaciuto, arrabbiato, sconfortato, ma non è la prima volta, nel senso che il calcio ci regala delle emozioni bellissime, solo a pensare ai ragazzi che sono venuti da Vallo, ai nostri tifosi, mi fa star male, però penso che in questo momento qui bisogna solo cercare di andare avanti compatti e uniti, stando vicino a chi sta soffrendo, come sto soffrendo io, perché è l'unico modo per per sentirsi a posto con la propria coscienza, cercando di aver dato tutto, e abbiamo dato tutto, ma purtroppo il calcio è questo. A volte ti regala delle cose fantastiche, a volte ti regala delle diluzioni immense, e il bello è che bisogna saperlo accettare, bisogna cercare di imparare da questi passaggi che purtroppo nel calcio esistono. Ora permettetemi, vado vicino ai miei ragazzi perché con loro abbiamo fatto tanto e probabilmente adesso, tra virgolette, piangere insieme ci aiuta a sentirci ancora più uniti visto la grande delusione.